Oggi gnocchi al ragù vegetale. Aggiungiamo un pochino d'olio in una padella, ci mandiamo dentro la cipolla e successivamente uniamo la carota, il macinato reidratato in padella. Poi va sfumata col vino rosso, quando non sentiamo più il sentore dell'alcol è totalmente evaporato. Successivamente aggiungiamo dell'acqua fino a coprire tutto e lo lasciamo lì stracuocere per circa un'ora, due ore. Più lo lasciate cuocere e più si insaporirà. Aggiungete il sale a fine cottura e poi semplicemente pomodoro. Lo lasciate lì cuocere ancora per 10 minuti circa ed è pronto. Acqua bollente, sale integrale dentro e ci andiamo a tuffare dentro i gnocchi. Come vedete gli gnocchi arrivano in superficie, li togliete e li esaltate nella salsa. Dopo due minuti è pronto tutto, quindi passiamo all'impiattamento. Io in questo caso ho usato del grattugiato vegano. Provate questo piatto e fatemi sapere.